Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Luca Bed, ex protagonista di Temptation Island, ha rivelato di aver attraversato un periodo molto difficile dopo la fine del reality. Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, Luca ha spiegato di aver affrontato una fase complicata sia fisicamente che mentalmente, ma ora si sente meglio. Dopo la fine del programma, la sua relazione con Gaia Vimercati è terminata, e lei ha continuato a mantenere i contatti con Jakub, il tentatore con cui aveva stretto un legame durante il reality. Luca ha condiviso il suo percorso di riflessione personale e il desiderio di diventare una persona più forte e consapevole. Luca ha dichiarato, ho passato un periodo difficile, sia fisicamente che mentalmente. Mi sono analizzato tutti i giorni. È successo tutto all'improvviso e non me lo sarei mai aspettato. Ma ogni esperienza, negativa o positiva, ti aiuta a capire chi sei e chi vuoi essere. Il tempo guarirà tutte le ferite e mi renderà un uomo più forte. Nonostante la fine della loro relazione, Luca ha espresso rammarico per la mancanza di una comunicazione sana con Gaia, affermando che attualmente i loro rapporti non sono buoni. Tuttavia, ha scelto di rimanere coerente con le sue decisioni e rispettare i propri sentimenti. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.